amici ben ritrovati quest'oggi uso il moto zappa però prima voglio spiegarvi quali sono le differenze principali tra moto zappa e moto coltivatore se vi trovate ad acquistare un attrezzo del genere e vi trovate a scegliere tre due non esiste un attrezzo migliore dell'altro sono entrambi validi a modo loro a seconda del tipo di lavoro che volete svolgere e vi elenco qui le varie differenze a livello diciamo di fresatura quindi parliamo di fresatura il moto zappa che è questo qui in questione è studiato e progettato solo per zappare è chiaro il concetto quindi se avete intenzione di zappare solamente questa macchina è studiata per zappare essendo una macchina che ha le sfrese collegate direttamente sul motore quindi non ha coppie coniche non ha rinvii non ha nulla è direttamente un motore un blocco motore collegato sulle zappette essendo progettato in questo modo il moto zappa tendenzialmente molto solido e quindi questa è la prima caratteristica permette una lavorazione più profonda quindi se avete intenzione faccio un esempio di piantare un orto come nel mio caso io adesso sto andando a piantare l'orto quindi devo preparare il terreno per trapiantare le piantine di pomodori sono abbastanza in ritardo quest'anno perché ha fatto freddo e ovviamente la terra comunque è bella secca perché non piove da mesi quindi non so come come potrò fare però se avete intenzione di piantare ortaggi ortaggi soprattutto delle classi pesanti quindi faccio un esempio volete piantare pomodori zucchine cetrioli melanzane peperoni zucche tutto ciò che solanace occo curbitace quindi roba abbastanza grande colture grandi e pesanti che rubano tanta energia e tanto nutrimento al terreno avrete bisogno di una lavorazione di fondo di quei 30 40 centimetri almeno quindi se vi orientate verso questo tipo di colture nel vostro orto l'opzione migliore è il moto zappa perché il moto zappa riesce a lavorare più a fondo i trucchi per utilizzare un moto zappa come questo sono fondamentalmente non tantissimi uno la macchina in questione che voi scegliete deve essere pesante perché il peso stesso del motore che schiaccia le frese fa in modo che il trattore in questione non saltelli non avete quel senso di saltellamento e riuscite a dissodare anche terreni abbastanza duri se avete a disposizione un terreno come il mio che nonostante gli ammendanti è e resta un terreno argilloso molto molto argilloso quindi parliamo di un terreno che è una pietra quasi questo è buonissimo per fare i mattoni ma è proprio sconsigliato per andare a lavorarlo quindi se avete a disposizione un terreno pesante come questo o se volete dissodare per la prima volta un terreno pesante allora l'opzione è quella di orientarsi verso il moto zappa voi mi direte allora il moto coltivatore a cosa serve è facile riconoscere il moto coltivatore anche da lontano perché presenta al posto delle zappette delle ruote e le frese il gruppo di frese sono posizionate qui nella parte posteriore il moto coltivatore è indicato per un lavoro più di fino intanto è più elegante vi stancate di meno perché ha un gruppo di ruote però le frese posizionate dietro invece che sotto il motore permettono una lavorazione tendenzialmente più bassa 10 15 centimetri anche 20 quindi se lo usate per non lo so per lavorare un terreno finemente per stendere un prato allora va bene se lo utilizzate per lavorare un terreno un orto per mettere delle insalate o comunque qualche tipo di coltura che non ha bisogno di lavorazioni profonde quindi colture leggere allora il moto coltivatore è comodo perché riesce a triturare finemente il terreno superficiale il limite del moto coltivatore è che non può lavorare terreni in collina tendenzialmente è comodo se avete un terreno in piano mentre invece il moto zappa è come una è come una capretta si arrampica quindi riesce a lavorare anche un terreno inclinato altra cosa fondamentale del moto coltivatore è che la funzione di fresare il terreno è solo una delle tantissime funzioni di cui dispone quindi è vero che il moto coltivatore forse fresa in maniera più leggera più superficiale il terreno però ha la possibilità di agganciarci dietro alla presa di forza tantissimi altri accessori diciamo che il fatto che la forza del motore non è diretta ma deve essere trasferita nella parte posteriore fa sì che il moto coltivatore è un po più delicato inoltre è un po più costoso quindi le differenze sono tante adesso io ve ne ho elencate qualcuno quindi se voi avete un terreno duro come il mio questo ve lo dico perché mi avete chiesto più di uno come mai hai preso il moto zappa non il moto coltivatore sono stato tra virgolette obbligato perché se io ho un terreno argilloso o un terreno mai lavorato come era questo un terreno brutto pesante e ho intenzione di piantare colture grandi e l'estensione del mio terreno è anche abbastanza notevole non posso fare a meno del moto zappa l'ideale ve lo dico proprio chiaramente l'ideale sarebbe avere entrambi nel senso che per adesso io non ce l'ho perché non me lo posso permettere però l'ideale sarebbe averli tutti e due una passata pesante una zappata a fondo e poi l'ideale sarebbe passare col moto coltivatore proprio a frantumare la parte superficiale per riuscire a seminare in facilità l'altro vantaggio del moto zappa rispetto al moto coltivatore che non cammina sulle ruote quindi non scappa il trucco per zappare bene il terreno e prendersi il giusto tempo quindi dobbiamo camminare piano dando il tempo al moto zappa di effettuare più giri facendo così anche col moto zappa si riesce a ottenere un terreno molto friabile molto sciolto dell'altro trucco ve l'ho detto e acquistare una macchina che abbia un peso notevole io sto usando un blackstone mhg 2004 da più di un anno ci freso il terreno e con questa macchina mi sono trovato bene però vi ripeto la mia sono solo indicazioni poi vi ho detto più o meno le differenze tra le due macchine a seconda del tipo di lavoro che volete effettuare potete orientarvi un'altra differenza sostanziale tra moto zappa e moto coltivatore è per quanto riguarda la precisione perché il moto zappa è più impreciso tendenzialmente mentre il moto coltivatore camminando sulle ruote non saltando per nulla riesce proprio a passare in maniera precisa quindi cosa succede che se noi vogliamo lavorare tra due file quindi un lavoro di interfilare magari in un vigneto magari in una coltivazione una coltura particolare in una serra dove volete voi allora è meglio orientarsi per il moto coltivatore perché è molto preciso se invece voi lavorate come me all'aperto non avete intenzione di utilizzare nulla di che non avete bisogno di precisione estrema allora è meglio il moto zappa il moto zappa per ovviare al problema che saltella o comunque quando il terreno sarà bello sciolto per ovviare al problema che affonda monta i dischi di galleggiamento sono quei dischi esterni al moto zappa che servono a dargli una direzione stabile quindi non lo fanno troppo saltellare e servono anche a mantenerlo un po sollevato da terra io adesso in questo momento ho bisogno che vada proprio a fondo quindi non monto i dischi esterni nella parte posteriore c'è un'asta che serve per regolare la profondità di lavorazione quindi più noi la mettiamo a fondo e più riusciamo a lavorare in profondità io in questo caso siccome ho bisogno di una macchina che lavori in profondità adesso lo metto più alto possibile allora amici vi ho spiegato più o meno le differenze tra moto zappa un motocoltivatore adesso vedete voi su cosa vi volete orientare io ho necessità di preparare l'orto siamo a primavera si riparte con l'orto estivo devo zappare tutta quest'area per piantare i pomodori quindi è freddo in questo caso il cavalletto l'ho tolto apriamo la benzina tiriamo l'aria mettiamo tutto su off perfetto come vedete anche questo parte a primo colpo vogliamo l'aria ecco qua semplice 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.